Seconda giornata salute e ambiente. Stamattina nell'aula magna del rettorato illustri esperti si sono confrontati tra di loro e con gli studenti su temi riguardanti la salute e l'inquinamento atmosferico e la salute e il rumore. Sono due tavole rotonde, una riguardante l'inquinamento atmosferico e la ricerca di eventuali fattori di rischio di sostanze inquinanti nello stato di malattia. L'altra nel pomeriggio, un'altra tavola rotonda riguardante il problema del rumore dell'intensità, della frequenza, del rumore e anche in questo caso la determinazione di eventuali fattori, di eventuali lunghezze d'onda che possono produrre non solo fastidi ma anche danni all'uomo, alla salute. Quanto è importante la prevenzione? Purtroppo è difficile perché qualche volta prevenire costa sacrifici, costa sudore, però dobbiamo arrivarci e rifarci a farlo non solo con le cure, non solo diminuendo il traffico odoveicolare ma riportando le nostre abitudini di vita a un livello di maggiore coerenza con quella che è la nostra natura umana. La seconda giornata salute ambiente fa parte di un master di secondo livello. Il master di secondo livello è anch'esso alla seconda edizione, un master per il quale la regione siciliana ci ha finanziato, quindi totalmente gratuito per i ragazzi che hanno partecipato. Abbiamo già diplomato con questo master 15 allievi l'anno scorso, adesso ce ne sono altri 15 che stanno frequentando. La giornata ha segnato la fine delle lezioni frontali e inizia per loro un percorso adesso di stage sul territorio, nelle varie industrie, nei vari settori che si occupano nei dipartimenti di prevenzione proprio di salute ambiente per andare a studiare i temi del monitoraggio e della valutazione dei rischi ambientali mutageni, teratogeni e cancerogeni.